ciao nel mio ultimo video ho fatto vedere come portare un modello 3d da zbrush a blender l'avevo fatto per per fare vedere come si possa renderizzare con blender un po meglio rispetto che con zbrush questo per esempio è una semplice cattura schermo del rendering in real time con iv su blender del modello in questione ho pensato che poteva essere interessante farvi vedere anche il processo col quale ho realizzato questo veloce tutto sommato modello di un'astronave dentro a zbrush in modo tale che magari possa essere utile a qualcuno che sappia già utilizzare zbrush nel senso che non quello che che vi farò vedere non è un tutorial è solo il metodo col quale procedo io ho proceduto in questo caso che magari può dare delle idee a qualcuno insomma sono partito con una sfera dynamesh risoluzione abbastanza alta perché siccome quello che volevo fare era un come si dice una modellazione hard surface quindi con delle superfici lisce sono partito appunto con una risoluzione piuttosto alta quello che sto facendo adesso qui è utilizzare il pennello clip brush quello che taglia via delle fette dal proprio modello per cercare di dare le forme generali iniziali quindi lavoro per sottrazione con il clip curve brush e un pochino di traslazioni e di pennello nuovi dopodiché quello che faccio di solito è quando ho delle dynamesh e devo fare dei nuovi pezzi li duplico e lavoro il duplicato perché così si porta dietro già tutte le caratteristiche della dynamesh precedente dopodiché come in questo caso ho unito tutto quanto una volta arrivato a un certo punto adesso la dynamesh ha la forma più o meno che voglio e devo fare un remeshing quindi praticamente dare una nuova geometria tutto quanto più pulita più a bassi poligoni questa qui e quindi quello che mi avete visto fare prima è in questa fase qui sono con il pennello di z remesh guide ho disegnato le linee principali secondo le quali volevo che venisse eseguito il remeshing in questo modo adesso il modello è costituito da pochi poligoni e ben diciamo allineati con un bel flusso e quello che faccio è utilizzare la selezione a lazo e cliccando sui singoli lati di un poligono viene selezionato tutto un loop con questo metodo seleziono alcuni loop e gli assegno dei polygroup a ciascuno con control w in questo modo in pratica sto preparando delle zone della mia mesh che poi diventeranno le varie parti del dell'astronave in questo caso quindi faccio dei gruppi e poi procedo a smussare con polish by groups vado ad arrotondarli e ho ottenuto tutti tutte le sagome delle forme principali che andrò ad estrarre le vado ad estrarre con lo strumento nuovi impostato per avere mask by polygroups al cento per cento quindi in pratica quando sposto un gruppo viene spostato solo quello e nessuno degli altri questo mi permette di cercare delle delle forme carine la seconda cosa che faccio è questa i panel loops qui nel pannello geometry e coi panel loops ai vari gruppi può essere dato uno spessore e un bordo a questo punto che ho uno spessore al bordo sempre con lo strumento nuovi e con la maschera per per poli gruppi al centro per cento un po' nuovi un po' sfuma quindi smooth e un po' anche trim dynamic mi metto a spostare alcune di queste forme cercando di creare dei dei movimenti interessanti nelle forme un buon flusso di curve e che sia un misto di elementi curvi ed elementi piatti quello che ho fatto qui adesso è stato di nuovo selezionare alcuni gruppi e estrarli di nuovo e fare un remeshing solo di questi gruppi ottenendo quindi di nuovo delle altre forme sovrapposte che poi vado per una seconda volta sempre con panel loops andrò a dargli spessore siccome volevo mischiare un po' di linee curve e un spigoli adesso con il semplice strumento nuovi impostato con ecchi curve come opzione del pennello sposto alcuni vertici in maniera da creare delle punte degli elementi molto netti do spessore a tutto quanto e procedo ad eliminare tutti quei pannelli che sono di troppo come per esempio appunto quello al di sopra del dell'abitacolo eccetera questo questo qua invece è un tentativo nel quale pensavo di dare un bordo ma poi l'effetto perdevo quell'effetto di bordi netti che avevo procedo poi in questo caso con diversi esperimenti risparmiandovi tutti gli esperimenti che ho fatto alla fine semplicemente sono passato all'utilizzo di forme geometriche molto semplici quindi un il pennello imm boolean base di zbrush e in modalità sottrai booleana ho prima eliminato alcune parti solo dai pannelli quindi ho fatto delle sottrazioni booleane sui pannelli sopra dopodiché adesso sto facendo delle addizioni booleane quindi aggiungo altri elementi sempre da imm boolean quindi sono tutti i pennelli all'interno di zbrush non sono andato a cercare particolari kit che comunque volendo insomma è facile trovare su internet molti modelli col quale fare questo tipo di lavoro che si chiama kit bashing insomma quando si procede un po dico a caso inserendo degli elementi già già pronti e già predisposti poi qui ho incontrato alcuni errori nel momento in cui cercavo di convertire il di fare la sottrazione booleana a volte capita con queste geometrie diciamo malfatte comunque risolto il problema a me interessava avere comunque una geometria esportabile quindi non potevo lasciare i boolean così come stavano in zbrush perché volevo appunto alla fine esportare tutto quanto al di nuovo utilizzo degli elementi booleani per andare a sottrarre a tutto quanto altri altri oggetti e soprattutto creare alcune zone nelle quali creare dei veri e propri incavi che rompano un po il flusso delle linee curve del modello in maniera da renderlo un po più interessante quindi soprattutto al di sotto delle ali sui bordi adesso vado un po avanti però si può vedere come ho creato questo buco dei buchi sotto le ali nei quali poi nella parte finale del lavoro sono andato a riaggiungere degli altri elementi in addizione eccoli qua per esempio questi che sono dei motori insomma li ho riaggiunti all'interno dei buchi che avevo che avevo ricavato sempre partendo da degli elementi pronti utilizzandoli in maniera fantasiosa insomma in questa seconda parte del lavoro avevo ormai la mia astronave pronta tra l'altro l'ho unita tutta quanta in maniera da avere un unico oggetto e sono passato a fare lo sfondo allora partire da un piano semplicemente con delle alfa che mi ero già preparato tempo prima e che avevo realizzato in world creator con delle alfa non ho fatto altro che spostare un po il piano dopo avergli dato una buona risoluzione e creando quindi questo effetto di montagne sovrapponendo poi altre montagne altri spostamenti sempre con delle alfa di montagne sopra ho creato questa specie di effetto di rocce che si incontrano come di grotta io poi di solito lavoro sempre duplicando gli elementi che ho già perché bene o male su queste cose un po naturali nel momento in cui le si ruota le si gira sembrano già diverse ecco ho preparato un cubo che faccia da base da base di atterraggio per la mia astronave e per fare il soffitto della grotta ho riutilizzato come al solito lo stesso terreno di prima dopo averlo ribaltato adesso ne sto tagliando alcune parti semplicemente per riuscire a inquadrare meglio perché mi dava fastidio avere le parti davanti dopodiché come ho fatto per l'astronave di nuovo con degli elementi in booleani in aggiunta e in sottrazione questi sono in sottrazione appunto e utilizzando la duplicazione quindi facendo control e trascinando in zbrush si può facilmente duplicare l'elemento che si ha appena posizionato utilizzo anche qui un pennello già pronto per prenderne parte degli elementi e cercare di disporli in maniera fantasiosa immaginando un hangar di atterraggio insomma poi a me serviva solo la parte più vicina all'entrata perché si sarebbe visto a malapena insomma qui alla fine è solo questione di fantasia utilizzando degli elementi che ci sono già è anche carino come metodo esplorativo diciamo soprattutto se non si ha delle particolari esigenze questo come si chiama kit bashing appunto permette di divertirsi utilizzando degli elementi cercando semplicemente di dare un po di senso volevo poi fare un portone che desse l'idea di un portone che potesse essere chiuso e aperto all'interno della montagna e di nuovo anche qua l'ho fatto con dei semplici elementi ripetuti la ripetizione di piccoli elementi piuttosto che l'uso di elementi più grandi permette di creare un'illusione di complessità che che ha un buon effetto nella fantascienza insomma e quindi preferisco in genere utilizzare ripetizioni di oggetti più piccoli e anche ridimensionarli scalarli ora sistemo il soffitto in maniera che corrisponda un pochino all'ingresso in realtà comunque si vedrà poco nella mia idea e quindi non è così importante e ora devo andare semplicemente a importare l'astronave vabbè in questo momento ho aggiunto un altro pezzettino di sfondo perché avevo paura che dalla mia inquadratura si potesse vedere anche un po di più taglio quello che non serve perché non vorrò esportare già questa geometria sarà molto impegnativa meno ce n'è meglio è insomma nel momento in cui si vuole esportarla e dopodiché non devo fare altro che andare a ecco quello che ho fatto qui è stato anche decimare con col plugin integrato dentro a zbrush decimare i poligoni in maniera da non avere una geometria eccessiva perché siccome lo scopo era l'esportazione è sempre meglio non esagerare insomma la parte finale di tutto quanto è convertire tutti i boolean in geometria effettiva e poi portare dentro ho deciso di creare la composizione tutta all'interno di zbrush perché quello che volevo far vedere era come si potesse esportare qualcosa che in zbrush è completo all'interno di un altro pacchetto di modellazione come blender insomma quindi in genere non lo farei non è zbrush il posto migliore dove creare delle composizioni e delle inquadrature però diciamo che lo scopo dell'altro video era quello di far vedere un'esportazione piuttosto complessa e quindi questo è il motivo per il quale ho costruito la scena tutta qui all'interno ecco qui quindi un rendering fatto da blender di questa scena nella quale appunto grazie alle possibilità che ci sono in blender per dare ambientazione atmosfera materiali c'è voluto abbastanza poco per trasformare quel modello che avete visto prima in zbrush in un'immagine già più gradevole e si possono ottenere dei rendering insomma per questo vi rimando all'altro video quello sull'esportazione comunque questo intero modello è stato realizzato all'interno di zbrush i materiali che ho assegnato in blender sono assegnati piuttosto alla svelta potevo fare un lavoro migliore però appunto lo scopo era quello di divertirmi a fare un po di kit bashing con un'astronave e di far vedere come passare da un programma all'altro spero che possa essere stato di ispirazione e se avete qualche altra domanda ci sono i commenti sotto vi ringrazio e alla prossima